l'esempio di un giovanetto don giuseppe inviato speciale don giuseppe gervasini i libri del casato a cura di luciana petruccelli v quale esperienza fa uno spirito che si incarna in un essere che muore prematuramente don giuseppe quando una vita corporale si interrompe prima del tempo non è perché lo spirito deve compiere un ultimo tragitto di una vita precedente non compiuta né tantomeno perché solo quel poco di esperienza mancava per completare la sua conoscenza finale bensì i motivi sono diversi coinvolgono soprattutto lo spirito e le esperienze di chi vive per poco tempo e riguardano anche il karma come voi dite dei genitori che hanno procreato ecco quando un bambino o un adolescente muoiono e ancora non si intravedono disegni particolari della mente che possono coinvolgere la loro vita futura da uomini spesso il karma di queste giovani vite è legato appunto per motivi particolari e complessi al karma dei genitori che li hanno procreati altre volte quando una vita corporale termina in giovane età la motivazione può anche essere diversa e spesso non comprensibile può darsi che si tratti di esperienze particolarmente sentite e difficili che ancora mancavano a quello spirito l qual è la differenza fra chi decide di morire a 25 anni e chi muore a 100 anni circondato da figli nipoti e con una morte dolce senza dolori don giuseppe grande differenza poiché uno che sceglie di morire volontariamente a 25 anni non ha il coraggio di viverla quell'esperienza e quindi la dovrà rifare in una vita successiva e sarà ancora più dura uno che muore a 100 anni pur avendone fatte di tutti i colori diciamo ha comunque pur sempre vissuto la sua esperienza ed è progredito in qualche maniera continua qui no a Grazie.